Odio i viaggi e gli esploratori. Inizia così il grande capolavoro dell'antropologia strutturalista Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss pubblicato nel 1955. Potrebbe sembrare strano che un docente di letteratura presenti, suggerisca di leggere un grande classico dell'antropologia che come tale è stato ripreso, discusso, anche duramente contestato dagli antropologi, ma Tristi tropici può essere letto anche come uno straordinario racconto di viaggio e come un testo letterario di altissimo livello, perché paradossalmente Lévi-Strauss intitola al suo primo capitolo La fine dei viaggi, dice appunto di detestare viaggi, esplorazioni, eccetera, ma in realtà ci racconta in modo appassionante le sue esplorazioni, con una presenza dell'io discreta, sobria, ma sempre molto forte e con un dialogo costante non solo con la letteratura antropologica, ma anche con i grandi classici da Rousseau a Baudelaire della tradizione francese. È un libro che intuisce nel 1955 il mondo globalizzato, che ci descrive le periferie di Dhaka in Bangladesh come se fossero ormai delle periferie di un occidente globale, quando ancora di globalizzazione non si parlava. È un libro che va alla ricerca del selvaggio in Amazzonia, ma quando lo trova si rende conto che non se ne può fare niente. Avevo trovato finalmente il mio selvaggio, dice Lévi-Strauss, e l'alterità assoluta però non è comunicabile e quindi non mi serve per le mie ricerche. È un libro sui limiti della ricerca antropologica, ma proprio anche sui limiti del viaggio, sui limiti della conoscenza e sulle strutture che fondano il mondo così come si stava creando in quegli anni e così come si è poi realizzato quasi profeticamente nei nostri tempi. È un libro che annuncia anche una crisi ecologica. Uno dei capitoli, e su questo concludo, inizia venite a campeggiare al Paranà, oppure no, lasciate a casa le vostre scatolette, i vostri rifiuti occidentali. Ormai non c'è più nessun ambito incontaminato in tutto il mondo, per questo i tropici sono tristi, per questo però sono anche interessanti.